Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Vi invito anche ad andare nei link in tra iscrizione dove troverete la nostra pagina facebook ufficiale, il link per abbonarvi e il sito web ufficiale. Detto questo andiamo subito a vedere le previsioni per quanto riguarda questo video. Questa ricordo essere solamente una ipotesi che ogni giorno che passa si fa sempre più possibile. A partire già dalla fine del mese, quindi inizio febbraio, come sappiamo il riscaldamento dell'antroposfera sulla Siberia porterebbe già a una netta rottura del vortice polare e quindi una sua destabilizzazione. Inoltre anche i modelli a 500 e topascale evidenziano una rottura. In questo momento i modelli hanno un po' cambiato le loro tendenze. Come possiamo vedere questa alta pressione molto potente atlantica dell'Azoria andrebbe a posizionarsi proprio sull'oceano atlantico, influendo molto il clima del nostro paese e portando anche varie eruzioni, come possiamo vedere questa. Nel primo 10 gennaio, già ieri l'abbiamo vista, ma per ora rimane ancora un'ipotesi. Come possiamo vedere comunque il vortice polare dopo questo periodo di compattazione, quindi si ricompatterà molto, verso la fine di gennaio, inizio di febbraio si inizierà a dividere. Come possiamo vedere anche bene a questa immagine, questo è il primo logo, il secondo logo e questo è un altro logo dislocato. Poi attenzione perché come possiamo vedere nei primi giorni di febbraio, in concomitanza anche a questa rottura del vortice polare, come possiamo vedere due alta pressioni che prima si andranno a posizionare sull'Europa e dalla stessa zona dell'Alaska andrebbero a dividere totalmente il vortice polare, come possiamo vedere in chiare due lobby. Attenzione perché a questo punto si romperebbe ancora di più lasciando i lobby totalmente distaccati e dando vita a due lobby totalmente diversi. Questo qua che si troverebbe a latitudini molto più basse rispetto alle sue, un altro qua come possiamo vedere che si trova proprio sulla Siberia e questo qui come ho detto che si troverebbe sopra l'Europa e andrebbe a spostarsi verso proprio la nostra penisola per il suo moto e un altro che troverebbe invece molto più resistente che si troverebbe sotto l'Alaska. Questo modello secondo molti potrebbe ricondurre molto simile a quella del 1985, ovviamente per ora comunque ci sono differenze ma concettualmente è la stessa cosa, però ricordo solamente essere un'ipotesi. Detto questo vi ringrazio dell'attenzione e ci troviamo con un nuovissimo aggiornamento meteo.